Sicuramente è stata una cosa sbagliata, è stata un'azione, insomma, ha sbagliato, Rick. Io devo dire che sono amico di Riccardo, ho avuto il piacere di conoscerlo e non è solito fare queste cose. Spero che abbia la possibilità per chiedere scuse e rimediare la cosa. Siamo ragazze, a volte purtroppo facciamo degli errori, però è sicuramente stato un errore, è stata una bella cosa.